Pronti tutti? Fermi? Uno! Tipo serio? Ma è fantastico! Oh che meraviglia! Guarda che bella scola! Da dove vieni? Non essere timida è nello più bello della... Dire questo! Ma sai che i cristalli sono importanti? Che meravigliosa fattoria! Quale modo? Silenzio! Ma che bella scola! E' bellissimo! Ciao ragazzi! A me piace! M&M! Due! Luggerati! E te cosa sei? Due! Ok grazie! Legge a legge! Luggerati! La terza! La terza! La terza! La terza! Non dimenticate di... Dici qualcosa di te Alice! Eh ma lo accompagno in questo viaggio! Io! E tu chi sei? Il raggi! Io sono un falco piccolo! Oh bellissimo! E adesso la tu... Ti portano lo sport! Lo sport che cos'è? Movi Verdi a giocare? Io! Oh! Cheese! Meraviglioso! Ma... Sare per due cose con voi! Bene! Una di fare un salto meraviglioso! Me lo fate! 3... Oh che salto! Troremate il palme! Salvatelo al mare! Un appello che ci mandano dei bambini! ci portano un messaggio culturale ma la mia che hanno la bicicletta